L'Emilia-Romagna, che nel triennio 2016-2018 ha messo a segno una crescita complessiva del PIL di quasi il 5%, nel 2019, secondo le stime più recenti, continuerà a crescere più delle altre regioni, toccando quota 0,5%, nonostante la frenata dell'economia nazionale ed europea. E' quanto emerge dal settimo rapporto IRE, scommissionato dalla CGL Emilia-Romagna, illustrato a Bologna la presentazione del presidente della regione Stefano Bonacini e della ex europarlamentare Lischlein. Un quadro tracciato a poco più di un mese dalle elezioni, che accende riflettori sulle sfide cruciali, come le emergenze ambientali e demografiche. Anche il lavoro resta un tema centrale, con gli occupati che sono aumentati dal 2014 a oggi, con numeri mai toccati in precedenza, ma calano le retribuzioni. Questa è una regione vecchia, che continua a invecchiare e che non ha un sufficiente ricambio. E questo ci porta ad affrontare anche temi come quello della immigrazione, che da noi sarebbe una risorsa da valorizzare, invece che un problema da indicare come terrore. Abbiamo il problema dell'ambiente e del territorio, perché stiamo dentro una delle aree più inquinate d'Europa. L'Emilia Romagna si presenta davanti a queste sfide con carte che gli altri non hanno e sul fronte dell'occupazione la CGL chiede di proseguire nel solco del patto per il lavoro regionale, facendo però un salto di qualità. Abbiamo bisogno di non avere solo la piena occupazione, abbiamo bisogno anche di avere la buona occupazione, perché ci sono ancora tante differenze, troppe, tra territori, tra generazioni, tra uomini e donne, tra giovani e meno giovani. E noi riteniamo che solo attraverso un sistema di concertazione, un patto, un'alleanza tra le forze economiche e sociali di questa regione, oltre che di chi ha funzioni di governo, si possa gestire una fase di ulteriore rilancio, di ulteriore crescita della nostra regione.